Nicola Molteni, come commenta la situazione in Albania? Siamo di fronte a un'invasione ormai senza controllo. C'è una responsabilità evidente da parte del governo, da parte di Renzi e Alfano, incapaci di gestire il flusso di immigrati. Solo a gennaio sono sbarcati sul nostro territorio oltre 8.000 potenziali clandestini, più 100% rispetto all'anno scorso. Renzi e Alfano sono complici di questa invasione. Sono complici dell'immigrazione, sono complici del terrorismo. Oggi la priorità non è andare a portare guerra in Libia. La priorità è difendere i nostri territori. La priorità è difendere i confini, difendere le frontiere. Siamo l'unico paese al mondo che utilizza le navi della marina militare non per difendere i territori ma per fare i taxi e i tour operator agli immigrati. La situazione è insostenibile. I territori non riescono a gestire e non possono più gestire quest'ondata immigratoria. Ormai i cittadini del nostro territorio sono discriminati da un governo complice dell'invasione, complice degli immigrati, complice del terrorismo che è già presente sul nostro territorio. Ormai i cittadini del nostro territorio.